Appena il tempo, una nuvola passa, per i fatti suoi, non vuole fare maltempo la nuvola, è una nuvoletta. Poi le cose, nessun segno, poi tu, pronto? Numero verde, senta signora, qui non mi si vede niente. Ah bene, e lì entra in azione la tecnologia Sky 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 Sky! Bene signore, prova sta castina. Arimettila. Si vede? Bene, grazie, ciao! La tecnologia! Posso dire con lo Sky? Sto pirati dei caraigli. O volevo levare? O leviamo? Oh, l'avrò visto 70 volte? Io la trama non l'ho capita. Saranno 70 volte che c'è questo posto polipo che... Lei che non si capisce che cosa sottile, non l'ho mai capito. Lo date troppo, eh? Ecco, questa non la tagliate. Fate una cortesia, mettete, perché è importante. A chiunque dice, mi chiediamo che fanno stasera Sky? I lati dei caraigli. Adesso io, guarda, io che non ho studiato musica, voglio dimostrarti che io ti suonerò... Che cosa? Non lo so, la prima cosa che mi viene. Quella sedia lì. Questa sedia qua. Scommetti? Guarda, prendo la mia giacchetta, la metto qua. Prendo questa sedia, anche questa, Filippi Kea, perché qui è tutta Ikea. Tutto è Ikea. Questo studio ci ha costato veramente 30 euro. Sai come si chiama questo studio? Scomprucunc. Il problema è stato montato. Esatto. No, perché poi è in una scatoletta così questo, eh? Lo apri, diventa tutto, perché è gonfiabile. Se tu lo apri, fai... E noi proprio siamo dentro, così. Allora, attenzione, il microfono lo metto qua così amplifico. Vedi questa sedia? Lui mi guarda, ma non ci crede. Sentite, eh? Apriamo questo, per favore. Sa, sa, ah, ah. Prova, ah, ah, ah. Cicca, 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 cicca. Ah, studio online del L'Oreal. Scolpisci i tuoi capelli, stu, 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 stupido. E mi vengono così. No, no, non applausi, ma opere di bene. Stai bene. Sei pronto? Sì. Senti questa. Sì. 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 Bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è paziente come un reno che è passato Con un carico di frutti, eravamo alla stazione sì, ma dormivamo tutti La mia banda suonerà, perché la pista è perché non c'era, e perché quel giorno lì inseguivano a sua chimera Non svegliateci, oh no, per favore no Cioè vedere la mia ombra lì, veramente sembro E.T. Guardate l'ombra, guardate l'ombra, guardate quell'ombretta lì, la 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 testa di E.T., sono una testa di E.T. E' un misto di E.T., oppure da E.T. si può passare a... Numeri, numeri! Ah, è guerra tra Rai e Sky, il prossimo film sarà I Pirati e Graivi contro la Signora in Giallo Allora dobbiamo chiudere assolutamente, però io non posso lasciare così qualcosa, ma dobbiamo fare Allora faccio una cosa, visto che dobbiamo fare, pochi di voi sanno, adesso la svelo sta cosa, neanche mia moglie lo sa Io sono un grandissimo, no, no, figlio della mignotta, no, no, qualcuno si è messo figlio della mignotta Scusate Un grandissimo, diciamo, gezzista Sono... Come ti chiami, Frodo? Torna nella terra di mezzo, va? Sono un grandissimo gezzista, allora colgo l'occasione che devo fare cose pacate Suonerò la tromba, io ho avuto un maestro di tromba che si chiama Paolo Favano, non so chi di voi lo conosce Suonerò per voi, prima che voi andiate via, il silenzio Ogni tanto mi sento molto, mi piace proprio lo stile La mia tromba, per favore Come essere fatta proprio in materiale quello delle tute da sub, perché è una cosa... Ah, scusami se... ecco perché avevo levato la giacca Scusate, i giustisti sono tutti, siamo tutti così Un po' stralunati, un po' Abbiamo un po' il nostro mondo Per noi esistono solo le sette note Do, re, mi, fa, sola, si, do Si, re, si, re Si, mi, si, mi Si, fa, si, la, fa Allora, ci sei? Sì, sì Allora, fa, fa, mi, mi Ok Mi, sol, fa Ok Mi, sol, re, la, sta, la Mi, sol, re, la, sta, la Una la e la Ah, è la Allora Ok Ah 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 Allora, signore, anche voi, questo non è rispetto, non c'è rispetto per la musica, non c'è rispetto per l'arte. Quelle note che mi sembrano un po' strane, quello è il jazz, è la nota, la famosa nota blues, la nota blues di tua sorella, la nota blues come la fa tua sorella, non la fa nessuno, ha delle note blues che sono... Riparto, fammi un do bequadro, questo è molto bequadro. Riparto. 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 Grazie.